Ese, Gianni Vera, Veronelli, mio piccolino, non ricordo bene, Ferrer, un grande cuoco. Ogni tanto veniva qua, trovava il mio padre, si metteva lì, cucinava nella terra battuta qui in cortile. Una griglia, andavamo nell'orto, che mia nonna aveva l'orto, prende le melanzane, i pomodori, due o tre spezie, si metteva lì con una griglia arruginita, incendeva il fuoco in mezzo al cortile. Sento ancora i sapori adesso, di allora.